Il liceo classico di Como entro metà luglio potrebbe conoscere il proprio destino. L'ufficio scolastico regionale ha chiesto infatti una deroga per il prossimo anno al ministero dell'istruzione e proprio al ministero spetta l'ultima parola. Il Volta da settimane è protagonista di una grande mobilitazione da parte di docenti, studenti e di tutti i comaschi. Questo perché manca all'appello una dozzina di iscrizioni per arrivare alla fatidica quota minima di 600. In sostanza fanno sapere dall'ufficio scolastico provinciale il direttore generale Lombardo Francesco De Santis ha chiesto anche in virtù dei soli 12 alunni mancanti all'appello una deroga per andare avanti il prossimo anno scolastico in attesa di una revisione dei programmi e dell'offerta formativa. Lo stesso dirigente comasco Claudio Merletti si è fatto più volte portavoce con l'ufficio regionale delle istanze del territorio e dell'unicità dell'iceo Volta. In sostanza al momento il regio manterrebbe l'autonomia istituzionale quindi non verrebbe accorpato diventando un indirizzo di un'altra scuola ma rischia di perdere l'autonomia amministrativa ovvero potrebbe non avere più il dirigente scolastico. L'ipotesi che circola è che potrebbe condividerlo con il liceo Teresa Ciceri per affinità di materie e vicinanza delle sedi. Una soluzione che non piace all'ex preside Bruno Saladino. In un momento in cui il liceo ha bisogno di nuova energia e presenze costanti dice la condivisione non è la strada giusta. Per quanto riguarda invece la possibilità di procedere con nuove iscrizioni per colmare i dodici posti vacanti non sembrano esserci spiragli concreti. Nei giorni scorsi infatti molti comaschi, autorità in primis e non più in età scolare avevano dichiarato di volersi iscrivere per salvare la storica scuola. A livello tecnico però non sarebbe più possibile perché la procedura è stata chiusa a febbraio. Dal canto suo intanto l'assessore al patrimonio del comune di Como, Marcello Iantorno, tra i primi a mettere in campo la propria disponibilità, ribadisce. Con altri amici e colleghi confermiamo la volontà di iscriverci al liceo Volta. La prossima settimana valuteremo come muoverci. La nostra, aggiunge, non è mai stata una provocazione. Vogliamo dimostrare, conclude, che siamo davanti ad una burocrazia priva di senso.